Anche l'impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso è vicino al collasso. La Miofoggia ha scritto ai sindaci della BAT per annunciare che da lunedì non accoglierà più i rifiuti della sesta provincia pugliese. A seguito della chiusura della discarica di Andria del 27 maggio e in precedenza il sequestro della discarica di Trani, hanno reso necessario e urgente l'accordo concluso il 2 giugno tra l'organo di governo d'ambito BAT, presieduto dal sindaco di San Ferdinando Michele Lamacchia e Loga Foggia, presieduto dal sindaco Landella, che prevedeva il conferimento dei rifiuti della BAT presso l'impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso. Da lunedì però la Miofoggia non consentirà più il conferimento in quell'impianto, anche perché dopo la biostabilizzazione quei rifiuti dovevano essere trasferiti, secondo l'ipotesi più accreditata a Taranto, ma così non è stato e quei rifiuti sono rimasti a passo breccioso. Foggia a sua volta è stata costretta a trasferire i suoi rifiuti a Deliceto, dove potrà conferire fino al 19 giugno. Si aggiunga che in via di esaurimento la discarica di Cerignola, dove conferisce il Gargano. Insomma, in Puglia si sta profilando il rischio che si crei un generale collasso del ciclo dei rifiuti. Il neoeletto presidente Emiliano si ritroverà all'emergenza di questa crisi da risolvere già al suo insediamento.